ciao a tutti ragazzi sono adri bentornati sul mio canale bene siamo tornati con i pronostici è il turno di juventus anzi manchester united juventus il sondaggio l'ha vinto la juventus avete ridotto ovviamente tanti juventini che mi seguono anzi non sanno che sono milanista però avete montato la nostra squadra quindi ragazzi avendo votato avendo la votata oggi ragazzi veramente non riesco a collegare il cervello con la bocca avendo la votata andremo a giocare a mani passi con l'ivertus che l'abbiamo già fatto recentemente in il prossimo di ventus napoli e vi dico che non ci siamo andati tanto lontano allora detto questo passiamo alla nostra facecam vi chiedo subito di lasciare like e di iscrivervi senza indugiare e andiamo a schiare la formazione gli undici dell'ivertus con shesney in porta anche se per in potrebbe interessarmi proprio frisco shesney alexandro oppo gradato 87 chelini 91 bonucci che attorno 88 come quando arrivò al milan e poi a finale lo danno gradarono per la pessima stagione 86 cancelo 84 che dirà 85 pianici 86 ma tu di 85 ronaldo 95 mazzuchic 85 di bala 91 però io voglio tanto bene a mazzuchic dicendo dei miei giocatori preferiti di verità però voglio a sinistra da glasco mazzuchic comunque verrà in panchina credo che quasi sicuramente entrerà e mi porta anche ventanculo al posto di ambrecia questa è la formazione anti united speriamo che possa portarci fortuna con ronaldo in attacco speriamo di fare bene quando abbiamo utilizzato i pali quando abbiamo utilizzato la juventus nei pronostici era su pes terzo palo e battemmo 3 a 0 in napoli con doppietta di ronaldo e un gol veramente assurdo di pala chi lo sa che oggi si possa ripetere questo però ragazzi su fifa lo score nostro di fifa 19 è piuttosto poverendo in quanto a parte mi hanno un'idea costituita 3 a 0 per il mia e totena barcelona 3 a 0 per il barcelona abbiamo sempre fatto e rimati di roma 1 a 0 poi siamo andati avanti United no Chelsea United 1 a 0 poi tre pareggi di fia nel nei pronostici di Nations League 1 a 0 il derby quindi finché non ci prendo un po' la mano fare goleate su fifa è piuttosto complicato però ragazzi magari è vincente chi lo sa ecco lino della Chessons League come dice Gaboman che saluto tra l'altro ne approfitto il lunato dei ragazzi fa paura soprattutto per chi è in porta però quel signore che sta in porta l'abbiamo già battuto col portogallo nella di Cristiano Ronaldo con la tripeta di Cristiano Ronaldo credo forse non mi ricordo nei mondiali l'abbiamo già battuto meno di una settimana fa nel pronostico mezzo spoiler va bene non fa mai male di Premier League mi ha fatto brutto Chiellini ragazzi siamo davvero squidi di tentacolo come mai sembrato prima abbiamo battuto anche ho detto meno di una settimana fa però ogni partita ha il suo corso lo United si ispirà con De Gea Lindelof Pogba Sanchez Lukaku Smalling Lingard Fred Show Valencia e Matic su tutti Grant Mata Rashford Marzia Younger RF che non hanno segnato contro di noi quando usavamo il Chelsea speriamo non lo faccio non è chiaro sinceramente noi l'avete già vista la formazione della Juventus dire e se non mi ha iniziato a dire noi il teso Juventus mi pesa tantissimo però devo fare una distinzione attacco credo molto valido soprattutto con una mangiata delle più forti di FIFA se non fa gol sarà un grosso problema e si può partire con questa grafica che a me a dire la verità piace un sacco e subito con Matuidi che recupera palla e la perde Show sulla destra per te sei Lukaku Cesny primo tiro porta è dello United ma si è fatto trovare pronto non è che fosse una parata difficilissima il portiere polacco si fa trovare pronto l'abbiamo battuto battuto nel senso ho fatto gol ma non abbiamo avuto la partita contro la Polonia metà in realtà sì Ronaldo 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 in area Ronaldo che dira bravo De Gea Bravo De Gea Pjanic verso Ronaldo Palo Vatti di Chiellini dentro per Costa palla messa fuori Lukaku Lukaku Chiellini rimane lì Chiellini che intervento Vatti di da fuori Ronaldo ancora De Gea ancora angolo per la Juventus due miracoli di De Gea e un palo per adesso lo scordi la Juventus Ronaldo di testa ancora miracolo di bel portiere spagnolo non credo che possa quale la palla Lukaku invece sì peccato peccato veramente Alexandro non perdere Lingard bravissimo la grascosta al cross Ronaldo che girata che girata del portoghese palla fuori poi a vederla di qui di poco poi vedremo ragazzi come è aperta la Juventus è molto buono è molto buono Roslingard gol perché 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 tutte le volte che faccio una partita fatta bene che faccio che ho delle occasioni piuttosto clamorose che faccio più tini in porta prendo pali traverse e tutto di più non vinco la partita non darò un alto colpo di testa non vinte niente perché tutte le volte mi succede questo la maggior tutte le volte esatto perché forse magari voi non lo vedete ma ci sono tante cose che non vedete di fifa non vedete le mie carriere non vedete quante cose rompo dalla rabbia la pianice della bandina ronaldo cristiano ronaldo eccolo 1-1 sul calcio tangolo è la quarta volta che ci prova ce l'ha fatta che se Ronaldo io mi arrabbio nella realtà quando fa il gol lui da buon milanista da buon rivale ma adesso il suo gol serve più di ogni altra cosa degli ai che trafigge il palo con le mani vabbè ronaldo e bonucci la rimette in piedi il portoghese al 32esimo lingard e ronaldo per ora partita che per ora ci sta piacendo speriamo che possiamo ribaltare il risultato a parte messo che non ci facciano un kickoff glitch sei venuto su un piatto d'argento adesso con matic la cosa non è assolutamente scudibile sanchez va il cross fuori di pogba ho visto un kickoff glitch che mi pedalava davanti ho visto un kickoff glitch che mi pedalava davanti va dentro dove c'è ronaldo che va di testa perchè non c'è la conoscura perchè non c'è la conoscura no lukaku un corsa no questo è un gol fatto no era pogba ecco perché era così lento non riesco proprio a distinguere pogba e lukaku non so come mai anche prima perchè che dirà perdi queste palle esci sceso esci sceso è un risultato che ci va bene però ragazzi secondo me stiamo meritando di più noi costa 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 val cross ovviamente non c'è nessuno però c'è Pjanic ci saranno da recuperare tre minuti come mostra la lavagna del quarto cuore ecco ecco alessandro c'è l'uval cross verso un altro prova rovesciata pari maneli ora esce e si va a riposo uno a uno ragazzi risultato che secondo me ci sta benissimo mettiamo assolutamente di più noi più tiri in porta due se tiri in porta qua scusate se tiri totali a quattro per la juventus però c'è anche da dire che abbiamo preso un palo clamorosissimo e poi Ronaldo con il suo gesto si è ripetuto buttandola in rete però abbiamo capito che il caccio d'angolo l'ha buttato lì su primo palo dove c'è lui è pronto a metterla dentro ed eccolo subito con la palla ed eccolo subito con la palla mettere dentro spazza difesa Dybala va al cross e c'è la grana scosta copritesta angolo entra Felleni non aspettiamo ancora per fare un cambio pala tesla c'è Dybala che è veramente basso non posso totalmente colpire prova il cross Mati dove c'è Ronaldo ancora messo fuori che dira alexandro a giro pala rimane lì perché non ci vai che dira perché mi tieni la freccettina gialla sopra di lui non si può prendere gol 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 uh mi sa molto di gol questa azione Lukaku Chesney e adesso c'è un cambio adesso ci bisogna mettere mani a questa difesa forse anche al centro campo Ronaldo davanti di bala largo fuori che dira dentro manzukic anzi vai manzukic seconda punta prossimo chiamici spazzare spazzare per i giocatori della Juve qui c'è il movimento eccolo adesso eccolo adesso di bala controlla bene va il cross e c'è Ronaldo ancora messa fuori uh uh mata fuori gioco per fortuna pianici arriva manzukic buona rinquezione qua dentro matuidira poi rimane lì ci ha fatto anche la rima venne spazzata perché spazzano i filtranti cioè questa volta è uno dei pochi che hanno fatto giusto però prima me ne è capitato uno con di lanciare la rita manzukic ma Eranada ha sbagliato il filtranto ancora portoghese dentro manzukic va il cross matuidira tre tre matuidira adesso godiamoci il mulinello il mulinello di matuidira la ribalta all'ottantottesimo la ribalta blaz matuidira due gol su cross ragazzi gli ultimi tre gol su azione di fifa quello contro lo united di kantè quello di bonumentura contro l'inter e questi due sono arrivati tutti da cross niente di reagiro niente inserimenti ho capito forse come fare gol per il resto di fifa diciamo gol di blaz matuidi la riprende lui vacca andrea va dentro a cercare un altro cross pallone per il defray c'è la torre per Messino la ripresa la ripresa Messino la ripresa Messino è 2 a 1 per l'inter è 2 a 1 per l'inter non è possibile è l'uomo della champions è l'uomo della champions Mattias Messino 2 a 1 e adesso difesa oltranza difesa oltranza godiamoci questi ultimi cioè soffriamo insieme questi ultimi 2 minuti e feleni 2 minuti lukaku herrera herrera fuori faccio un cambio veloce faccio un cambio veloce giusto per variare addosso agli Juventus agli come si chiamano agli inglesi esce Costa entra Bentancur esce Bonucci entra Benatia così giusto per fare due cambi è finito abbondantemente sul fondo i compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone palla che viene messa fuori ormai tempo è pienamente scaduto va a Smalling a recuperare la palla e finisce qui e finisce qui la ripresa Matuidi la ripresa Matuidi stesso con Di Buonaventura nel derby la ripresa lui la ripresa Blaz la ripresa Blaz ragazzi la ripresa Blaz all'ottantottesimo sei tiri cioè sei tentativi per Ronaldo un gol solo ma va bene così ha colpito anche un legno ha fatto la sua partita una partita che non finisce 1-0 comunque finisce comunque comunque finisce comunque bruttissimo di un gol di scarto però ragazzi è stato piuttosto emozionato dono 1-0 dove ci avevano praticamente castigato i padroni di casa noi siamo riusciti a ribaltare 4-3 e la cosa mi sembra anche piuttosto giusta detto questo ragazzi lasciate like e iscrivetevi al canale come dice Mastrangio ci vediamo domani perché domani ci sarà una partita molto importante ovvero Barcellona ciao a tutti i ragazzi grazie della visione a veramente prestissimo ciao baffermin baffermin buon baffermin buon baffermin